Contro la novescia, inizia Babbia il commissario, si incide in semaforo con il rimo Smo, Lange, secondo Marquez, secondo da Cratchlow, primo Marquez, secondo Cratchlow, Miller, Ducati, Ducati in terza, deve essere Petrux, attenzione Marquez su Calla, Cratchlow, è dovizioso, dovizioso, attenzione, è un cedro vicino, contenza strepitosa, vinto la mezzola, molto piccola vicino. Allora, attenzione, è stato avvisato un drone.